Ciao a tutti, sono Marco Domenico e io e io sono il 3 minuti di consultante. Oggi parleremo del Gang of War, un gruppo post-punk britannico formato sia l'East nel 1977. Il gruppo suona punk rock fortemente influenzato dai generi funk, dub e reggae. Si sono dedicati a teami sociali incentrati sulle difficoltà della società moderna. Il loro primo disco, Entertainment, giunse alla 490esima posizione nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone. Gli ultimi lavori della Gang of War, Songs of the Free and Hard, dividero più interessati a sonorità più contemporanea, quasi vicina alla disco music. Gang of War, un'english post-punk band formato dal 1976 in Leith. Il gruppo sui originali sono John King, Andy Gill, Dave Holland e il drummer Hugo Bonham. La band è playa a stripte-divene mixe di punk, rock, funk e dub. Con un lyrical enfasi sui social e politici di società, Gunkufu è widely considerato una delle leggi bambi del post-punk del post-punk. La debutante Album Entertainment è stata rancata da Rolling Stones per la 5th grittest punk album di tutto il tempo. Il numero 4 in la lista di 500 grittest album di tutto il tempo. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!